Episodio 8 del corso di Shopify, oggi parliamo delle collezioni, prima di parlare delle collezioni dobbiamo andare a vedere il nostro negozio online, quindi vi basta premere questo, vedete dove c'è l'occhiolino qua sopra per finire sul vostro store, ok? Quindi per ora siamo a questo punto, questo qua non ci interessa, siamo a questo punto, se andiamo su catalogo vedete che abbiamo tutti i nostri prodotti, giusto? E qua sotto abbiamo i nostri prodotti come featured products, quindi i prodotti in vetrina, quelli veloci che stiamo guardando. Però in realtà noi potremmo voler creare diversi tipi di collezioni, ma le collezioni possono essere, ascoltarmi questo è importante, sia lato digitale che lato tra virgolette fisico e logico, nel senso che una collezione, voi probabilmente la conoscete come collezione autunno-inverno, benissimo, quello è un tipo di collezione che potreste creare delle collezioni con quella logica. Potreste creare una collezione intesa come un gruppo di gonne, di magliette, magliette bambini, abbigliamento bambini, abbigliamento adulti, magliette adulti, accessori, eccetera. Capite bene come potete creare una collezione di qualsiasi cosa. Inoltre, e quello è l'aspetto fisico, l'aspetto reale, e poi c'è la collezione intesa come insieme di prodotti che voglio mostrare in determinate parti del mio sito. Quindi potrei avere in feature products, potrei avere gli ultimi arrivati, quindi mi creo una collezione di prodotti che sono arrivati per ultimi e automaticamente vengono aggiornati. Io lascio qua dentro la collezione ultimi arrivati, automaticamente ogni volta che aggiungo un prodotto, vedete che già sta succedendo, viene aggiornato. Ma sotto potremmo avere la collezione dei best seller, quindi quelli che vendono meglio. Sotto potremmo avere la collezione dei prodotti scontati. Sotto ancora potremmo avere le ultime occasioni. Capite bene che quindi una collezione non è solo la collezione di gonne, cioè non è solo la collezione autunno-inverno o abbigliamento bambini, oppure magliette diverso da accessori. Ma potrebbe essere anche intesa come gruppo di prodotti che voglio mostrare in determinate parti del mio sito. Spiegato questo, dovrebbe essere tutto molto più chiaro. E allora andiamo su collezioni e indovinate un po', vedete, abbiamo che collezione home page. Eccola qua. E nella nostra collezione home page abbiamo un bel prodottino. Possiamo modificare l'immagine della collezione. Fatemi trascinare il mio corso di HTML giusto per prova, per far vedere che è diverso. Possiamo gestire la nostra collezione. Stesso discorso. Possiamo modificare il modello del tema, al momento non ci interessa. Possiamo aggiungere prodotti. Quindi da qua potremmo scrivere, cos'è che avevamo? Non mi ricordo, gift card forse, no? Esatto, gift card. Quindi aggiungiamo gift card. E io voglio che in questa collezione ci sia solo il libro e la gift card. E lo chiamiamo prodotti sotto i 30 euro. Va bene? Possiamo mettere la descrizione. Descrizione che comparirà vicino alla collezione. Perfetto. Senza creare le cose troppo complesse. Andiamo a salvare. Vedete qua che c'è il pulsante nero sotto il trial. Quando poi andremo a togliere sta roba qua sarà molto più bello. Se vi dà problemi vi basta fare ctrl meno e non dovreste avere problemi. Ok? Io giustamente ho questo problema perché ho zoomato. Per farvi vedere meglio. Salviamo. E adesso andiamo a vedere la nostra collezione. Nel nostro store vedete che abbiamo la collezione sotto i 30 euro. E cosa c'è? Solo i nostri prodotti che abbiamo selezionato. Quindi in realtà poi questa collezione la possiamo rendere disponibile altrove. Oppure la possiamo anche mettere nel nostro menu. Al momento non sappiamo ancora come sistemare il menu. Però vi faccio vedere velocemente che se andiamo su online. Navigation. Poi parleremo meglio di sta cosa più avanti. Se vado a modificare il main menu posso aggiungere che cosa? Guardate un po'. Premete qua. Potreste inserire il link direttamente. Oppure premete qui. Andate su collection. Giustamente la nostra collezione. E vogliamo linkare ai prodotti sotto i 30 euro. Vedete? Faccio aggiungi. Faccio salva. Non vi spiego il menu per ora. Non è importante. Andiamo ovunque nel nostro store. Passiamo qua dalla home page. E se guardate qua in alto. Poi non ve l'ho spiegato. Quindi non è un sottomenu eccetera. Al momento non è importante. Prodotti sotto i 30 euro. Ed ecco qua. Quindi questo è un modo semplice per trovare la nostra collezione che andiamo a fare. Quindi siamo passati direttamente alla pagina dei prodotti sotto i 30 euro. Questo è un esempio di collezione. Un'altra cosa. Un'altra posizione in cui potremmo andarla a trovare la nostra collezione. È sempre nel nostro store. Voglio andare a modificarlo. Siamo nella home page ricordatevi. E qua dentro potrei voler aggiungere una sezione. E cosa potremmo fare? Aggiungere una collection list. Eccola qui. E da qua potremmo selezionare. Vedete? Le nostre collezioni. Quindi qua potremmo avere ad esempio più collezioni. Oppure. Cancella. Elimino questa sezione. Andiamo a modificare questa sezione. Come potete vedere. A che cosa fa riferimento? Alla collection all. In realtà voglio cambiarla. E voglio cambiare la collezione. E avere solo i prodotti sotto i 30 euro. Quindi quando vi dicevo che le collezioni. Intanto fatemi salvare. Qua in alto. Non conosciamo ancora questo editor. Non preoccupatevi. Diventerà tutto molto più chiaro. E appunto durante il corso. Possiamo uscire. Torniamo sostanzialmente nelle nostre collezioni. Quindi prodotti. Collezioni. Ma se noi andiamo ad aggiornare la nostra home page. Come potete vedere. Abbiamo aggiornato la collezione. Quindi ricapitoliamo ancora una volta che cos'è. Qua c'è la nostra collezione. Possiamo aprirla. Modificarla. E quant'altro. È irrilevante al momento. Abbiamo già visto tutto. Qua si può eliminare. Eccetera. Ma la cosa importante. È che una collezione. Ripeto. Può essere una pagina particolare. E quindi dove vogliamo trovare prodotti specifici. Può essere però in realtà. Anche semplicemente. Una zona. Del sito. Una piccola sezione. In cui vogliamo far comparire determinati prodotti. Va bene. Dovete vederla come. Ambe due. Le cose. Una cosa che impareremo più avanti a fare. È modificare. La pagina della collezione. Perché se vedete. Questa pagina di collezione. Sarà uguale per tutte le collezioni. Certo cambierà il nome. Cambierà la descrizione. I prodotti. Ma magari non vogliamo i filtri. O magari vogliamo un'immagine. Vogliamo altre cose. Eccetera eccetera. Quelle cose lì le impareremo. Quando faremo. La customizzazione. Del tema. Quindi per ora. Questo è quanto. Direi di non perdere tempo. Perché dobbiamo guardare. Le scorte. Ci vediamo tra poco. Che vediamo tra poco.